E allora amici di Calciapazzo vince il Cosenza che in casa vende sempre cara la pelle contro una Cremonese che in quest'estate era stata costruita per puntare alla Serie A una delle squadre potenzialmente più tecniche di tutta la Serie Cadetta ma che però non riesce soprattutto in fase offensiva proprio non mi pare che c'ha tipo 8 gol in 11 gare il peggior attacco della Serie B. E per cui chiaramente ma perché questo perché perché ragazzi giocano è una squadra tecnica ma giocano tutti vogliono tutti palla sul piede cioè nello spazio non ce va nessuno pochi pochissimi movimenti senza palla e quando tu giochi con una squadra aggressiva e incazzata come il Cosenza che ti dà poco spazio che sta sempre molto corta che è micidiale nelle ripartenze e che sulle seconde palle arriva sempre prima perché ce l'hanno molto questo fatto anche di lanciare spesso infatti a me è piaciuto oggi molto Canutè che è un regista che sa fare un po' tutto perché sa sia lanciare lungo per i due esterni che sono Baez fortissimo e Carretta dall'altra parte poi dall'altro oggi in partita si sono anche invertiti sa lanciare ma sa anche andare in progressione in percussione centrale dicevo dei migliori in campo oltre a Canutè mi è piaciuto molto Chaudone che io ribattezzerei quasi lo Zidane di Cosenza perché comunque ha un'andatura un portamento che a me me lo ricorda in tante piccole situazioni situazione ovviamente esagerato non c'ha manco l'unghia del piede destro insomma del Zidane però ecco diciamo che per la realtà di Cosenza è comunque un signor giocatore tra l'altro è lui che ha sbloccato il risultato su un'uscita un po' a cazzo di cane da parte di Ravaglia e di Ravaglia è una marcatura veramente marcatura mi pare già definire la marcatura veramente forse pretestuoso perché dice sai la cremonese marca zona in area ho capito intanto secondo me in area quando c'è il calcio d'angolo ognuno si deve più all'uomo suo e se anche marchi a zona stai a vedere chi cazzo ci viene da zona tua perché chiaramente altrimenti si fanno queste figure di merda poi il raddoppio è stato di Rivier ma nel primo tempo tipo sei tiri contro zero la cremonese l'ha ammatirato quando è cattivato un porto la cremonese nel secondo tempo l'unica occasione ce n'è stata un'altra nel finale desodimo ma comunque l'unica vera occasione è quella di Arini colpo di testa nella ripresa che termina sul palo quindi la cremonese poi ha provato anche a mettere più peso specifico in avanti ciofagli eccetera però poca poca roba anche i due centrali di difesa del Cosenza hanno fatto un'ottima gara di Baez l'ho detto Baez e Chaudone e Canutè secondo me migliori in campo anche Carretta comunque con dei cross interessanti si è reso pericoloso e niente vittoria assolutamente strameritata e mai in discussione nemmeno per soltanto nemmeno soltanto nemmeno soltanto non si dice ma nemmeno per un minuto proprio a stare in discussione e niente mi pare che vi ho detto un po' tutto complimenti ai lupi di Cosenza un saluto buonanotte e sempre caccio paccio